Sapete, molti mi chiedono cosa si trovi di così bello in questo periodo della stagione. Mentre per alcuni l'autunno è la fine di una stagione, per me invece è l'inizio di una rinascita. Era da tempo che aspettavo questo momento. Pensavo che, con l'estate, avrei potuto dimenticare tutti i problemi di questa vita frenetica. Invece erano lì, pronti a ritornare a galla. Mi sono illusa. Mi metto alla ricerca di un posto che mi faccia stare in pace con me stessa, lontano da tutti, controcorrente, e lasciare che il silenzio dialoghi con il mio io interiore. Adesso, però, è ora di ripartire. L'autunno è arrivato. L'autunno è arrivato. L'autunno è arrivato. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.